Il giro collo traspirante sfoggiato ieri sera da Colpani per presentarsi con la nuova squadra Concilia, con una certa dose di inventiva, il bisogno di combattere la calura estiva e il collo altismo professato da Cioffi. Una novità da seguire con attenzione. E' un motivo che tutti voi che si sentono. Demotivato, mollo, ma che mollo? Ma che cosa dite? Mollo che è? Something was wrong, I said. Eh, dildin, dildin, wake up! Sono antipatico perché mi incontro. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altro strato. Buonasera, buonasera. Ho preso ormai effettivamente le veci di Andrea che non riesce a farsi inquadrare. Lo ascoltate. Solo salutava sempre. Noi lo vorremmo ricordare così. Un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo, ma non tanto bravo quanto che lei. E allora introduco così gli ospiti. Ringrazio Nicolò se poi riuscisse a staccarsi dal telefono. Nicolò, siamo in diretta. Se vuoi che qualcuno ti guarda mi devi far mettere la storia. Dato che Andrea... Ah, t'ha fregato. Andrea è andato lasciandoci un cellulare di merda da buttare via e quindi dobbiamo fare le foto col mio. Eh, niente. Però ciao anche a te, Fede. Ragazzi, è stato bello. Ci vediamo venerdì prossimo. Sempre un piacere vederti. Com'è sempre un piacere vedere Francesco che è tornato a trovarsi. Come sta? È tutto bene? Sì, bene, grazie. Un piacere anche per me. Mi fa solo che piacere. Forse abbiamo anche la visione di Andrea. Che culo, direbbe qualcuno. Una delle grandi fortuna del dopoguerra. Buonasera, ragazzi. Buonasera, Fede. Come la va? Tutto bene, tutto bene. Caldo. Oggi ho fatto palestra. Lo stavo raccontando a Francesco mentre ci siamo trovati qua sotto. Però tutto bene. Sto cercando l'effetto esticazzi. Però non c'è, non ce l'avevamo ancora. No, no. Sono contento, un po' meno contento degli avvenimenti che circonda la mia squadra, ma ne parliamo... Eh, partiamo qua per questo. Siamo qua per questo. Siamo qua apposta. Ma prima di addentrarci in questo calciomercato bollente, come il titolo della nostra diretta suggerisce, vorrei chiedervi, a caldo, a caldissimo, cosa ne pensate di quello che è successo alle Olimpiadi? Perché siamo davanti a un qualcosa di storico, secondo me. Però ti anticipo perché spieghiamo il fuori onda, cioè Fra che non sa che cosa è successo ed è un bene perché... Non so, ma non mi sono documentato, diciamo. Ma va benissimo perché adesso ti spiegheremo esattamente che cosa è successo e ci darei un'opinione proprio così. Il più oggettiva possibile, sul momento, un'opinione un po' da var, no? Cioè, quello che deve decidere al momento che cosa fare. Cioè, tu cosa avresti fatto? Fede, vuoi raccontare cosa è successo? Raccontiamo brevemente quello che è successo. La prima partita del girone olimpico della disciplina calcio è partita tra Argentina e Marocco. I no dell'Argentina fischiato, quindi tensione durante tutto il match. Marocco che va avanti 2-0, correggimi se sbaglio Andrea. Se non sbaglio l'Argentina va in vantaggio. Ha in vantaggio l'Argentina e recupera... Comunque... Il punteggio arriva sul 2-1 per l'Argentina. 2-1... No, per il Marocco. Per il Marocco, vuole vedere attento, bravo. 2-1 per il Marocco al 91esimo. Viene dato un recupero large, come da direttive FIFA, perché deve essere recuperato. E quindi il recupero si allunga fino al 15 minuti di recupero, così. E nel corso di questi 15 minuti l'Argentina segna, in situazione un po' carambolesca, segna. Nel momento in cui l'Argentina guanta il pareggio all'ultimo, c'è un'invasione di campo, ma... Il caos. Non una, più invasioni di campo, con i tifosi marocchini che iniziano anche a lanciare petardiche in campo, così. E l'arbitro si vede costretto quindi a sospendere la partita. Se non fosse che il gesto fatto dall'arbitro non suggeriva il fatto che l'arbitro avesse sospeso la partita, anche perché mancavano 3 minuti, e quindi tutti pensavano che fosse finita la partita. Tant'è che lo stadio si è svuotato, hanno fatto defluire i tifosi fuori dallo stadio, tutti i siti hanno aggiornato il pareggio tra Argentina e Marocco da due. Lo stesso tabellone segnava partita interrotta, quindi... Esatto, e un'ora e mezza dopo, l'arbitro ha detto ai giocatori di tornare in campo, e non solo, l'arbitro, dopo una revisione VAR, ha deciso di annullare il gol dell'Argentina, per fuori gioco. E poi la partita è continuata per quei tre minuti ed è finita con il risultato di 2-1 per il Marocco. Partita, credo, inaugurale? Sì, prima partita delle Olimpiadi di Calcio. Esatto, poi dopo saremo... sono anche curioso di vedere, non so se ne parlerete lunedì a Game Over, se avrete modo di parlare. Lunedì a Game Over parliamo delle Olimpiadi. Eh, quindi... Perché? Stiamo spoilerando. Eh, no, sì, beh, le Olimpiadi sono... non sono... credo sia oggi la cerimonia inaugurale. Oggi la cerimonia, ma è già iniziata. Ma sono già iniziate con le partite di calcio. Fra... Il calcio alle Olimpiadi conta come disciplina? Credo conti meno del tennis. Sì, sì. No, credo che una partita, questa Argentina-Marocco, conti meno di Inter per golettesi. Sì, sì, sì. No, no, c'è un motivo serio perché non giocano le prime squadre, ma i settori giovanili. Per il semplice fatto che le Olimpiadi... ma è lo stesso discorso del pugilato. I pugili che gareggiano le Olimpiadi non sono pugili professionisti, ma dilettantisti. C. E quindi è la stessa cosa che si fa col calcio. I giocatori dei giovanili non sono ancora dei professionisti e quindi possono gareggiare nelle Olimpiadi. E se fossero stati professionisti non avrebbero potuto. Poi fanno le eccezioni dei fuori quota perché c'è tipo Tamendi, se non sbaglio. No, c'è anche... Achimi, no? C'è Achimi nel Marocco, esatto. Credo ci sia un'eccezione, ma in ogni caso la regola è quella. Tre ce ne possono essere. Tre fuori quota over 23 in questo caso che possono giocare su... espressa autorizzazioni delle società perché le Olimpiadi si giocano fuori dal calendario internazionale. Tant'è che ad esempio la Francia ha... Tanti giocatori francesi, sia che sono stati chiamati in prima squadra che dai rispettivi club, non sono stati autorizzati per... E nonostante ciò la nazionale francese ha comunque uno squadrone e ha pure vinto la partita. E' emblematico il caso di Turam che lui in realtà aveva avuto l'ok prima e poi col trasferimento alla Juve, no, idem Bappé. Esatto, il PSG aveva dato il via libera, ma non il real. Ma io mi focalizzerei sull'episodio storico e chiederei a Francesco un'opinione così su due piedi, cosa ne pensi di... Ma tu, cosa ne pensi? Ma io, innanzitutto sono più per il calcio giocato, però questa, chiaramente, i regolamenti non sono mai perfetti. Quindi bisogna vedere poi se effettivamente da regolamento un'interruzione della partita così lunga sia effettivamente valido o meno. Poi se il gol, ad esempio, è fuori gioco, cosa devi fare? No, sì. Devi annullare. Poi, cosa scandalosa più che altro, che io penso che se l'invasione sia, diciamo, causata da tifosi di una delle due fazioni, penso che, appunto, la partita dovrebbe essere vinta a tavolino dalla squadra che ha subito il torto in questo caso, no? Cioè l'Argentina, poi magari non avrebbe pareggiato, eh. No, per gli ultimi tre minuti. Adesso io non... No, ma gli hanno giocati gli ultimi tre minuti. Eh, no, 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 giocarli dopo un'ora e mezza l'interruzione è diverso. È quello. È come quando, non lo so, se un tifoso di una squadra ospitante tira un oggetto e impedisce un giocatore di continuare. È un po' come se in un derby di Champions i tifosi della squadra che sta perdendo lanciassero i petardi in campo. È come è andata a finire. E infatti lì è stata persa a tavolino. Infatti dovrebbe essere così, credo. Penso che sicuramente l'Argentina... Ha fatto ricorso, ha fatto ricorso alla FIFA e si attende una novità. Ma no, ma sicuramente sarà così. Anche perché poi gli ultimi tre minuti, ripeto, non avrebbero portato a nulla lo stesso probabilmente. Però dopo un'ora e mezza di interruzione, sai, anche mentalmente... Sì, no, è... Oggettivamente la questione mentale è... Poi, se non sbaglio, il pareggio è arrivato in un momento in cui l'Argentina sta schiacciando il Marocco. Sì, anche un po' per inersa perché... Esatto. ...vi sotto. Continua avanti. Sei il campione sia mondiale che... ...la Coppa America, quindi... Ragazzi, comunque, siamo qua... Visto che stiamo parlando dell'Argentina, direi di entrare subito nel tema della puntata che si vede anche nel titolo della trasmissione, calcio mercato bollente, partendo dall'Argentina e da un giocatore argentino. Così, voglio andare proprio freestyle, partire... Non so se avevi preparato una scaletta te, Fede. No, però mi piace questo collegamento. Mi volevo collegare... All'Argentina. All'Argentina, che ha detto prima, però... Ok, abbiamo Turam, abbiamo però dall'Argentina novità degli ultimi giorni, se non addirittura delle ultime ore. Un argentino che tra l'altro non è stato convocato alle Olimpiadi perché è ormai già pronto per la prima squadra, ha vinto la Coppa America, Valentin Carboni. Partiamo da lui, partiamo da questa presunta offerta del Marsiglia in prestito diritto di riscatto a 36 milioni, con recompra però dell'Inter a 40 milioni. Ora, come valutate questa bellissima offerta del Marsiglia? Partendo da Fra, passando da Nico, arrivando fino a Fede. Vabbè, innanzitutto parto nel... Cioè, diciamo la premessa è che Carboni per me non è un giocatore... La Inter, sicuramente. Io penso questo. Subito. Poi dico un'altra cosa. Il riscatto, il diritto di riscatto non verrà mai... Non penso che venga mai esercitato per quella cifra lì. E io credo che Carboni sia la rappresentazione di quello che è Marotta. Cioè, anche lui è risaputo che abbia grandissime abilità dal punto di vista mediatico, no? Tramite conoscenze, vai. Comunque sono trent'anni che è in questo settore. Io penso che sia una strategia di marketing studiata ad hoc intorno a Carboni. Cioè, il far risaltare un giocatore che non ha fatto mai niente. Cioè, non penso abbia fatto più di due o tre gol. Questo ha fatto due o tre gol. No, Almonza non ha fatto un paio di gol. Ha giocato poco. Un giocatore che comunque non ha mai fatto niente in carriera, né a livello internazionale, né nazionale. Penso sia una strategia di marketing studiata appunto appositamente per overvalutare un giocatore, liberare uno slot, fare un po' di cassa, una bella plusvalenza e riuscire magari ad andare a prendere un sostituto con la stessa cifra che però poi sul campo renderebbe dieci volte tanto. Perché Carboni 36 milioni, Gudmund sono la stessa cifra, va bene che uno ha sette, otto anni meno dell'altro, non di più. Però Carboni oggettivamente per me è un giocatore troppo, troppo, troppo pompato come tanti giocatori in Serie A. Nico, sei d'accordo? Ma io ti dico, Carboni quest'anno ha fatto, credo solo un gol, quello contro la Juve e qualcuno ce l'aveva titolare al fantacalcio. C'era un cross tra l'altro, no? Chi è che ce l'aveva tirare al fantacalcio? Noi, noi. Anzi eravamo noi, eravamo noi. C'era pure titolare al fantacalcio contro i me. Fenomeno. Nessun unico gol in cui ha partito perso contro i voi ma poi si sa che alza a finire il fantacalcio. Sì, era un cross in mezzo che è diventato il gol del provvisorio pareggio del Monza contro a Juve. Io sono completamente d'accordo con Fra. Non so se è una strategia di marketing ma sicuramente non vale 36 milioni. Adesso io ti offro un altro nome che ho sentito prima essere molto caro a Fra e non voglio anticipare nient'altro. Però a parità di condizioni secondo voi è normale che Valentin Carboni costi più di sulle? No, è follia. Cioè a parità di condizioni proprio, al di là del giudizio che si ha su di uno o sull'altro. Ma questo infatti... Secondo me è assurdo. Ma questo infatti, dico l'ultima cosa poi vi lascio concludere, è la differenza tra Giuseppe Marotta e tutti gli altri. E perché Marotta da Venezia a Juventus-Inter ha fatto quello che ha fatto... A Sampdoria. E gli altri, sì, sì. Adesso per non citarle tutte. E gli altri perché non hanno fatto quello che ha fatto lui. Anche perché le grandi squadre passano dalle cessioni, in Italia soprattutto. Questo è l'esempio lampante della probabilità. Questa è manna dal cielo per l'Inter ovviamente. Perché sono d'accordo che poi si può andare a investire su un altro profilo. Perché a differenza dell'anno scorso, secondo me, la quinta punta all'Inter serve. Serve assolutamente avere una quinta punta. Perché Arnautvic non ha dato garanzie neanche in termini di fisico. Perché ha avuto parecchi infortuni l'anno scorso. O meglio, ne ha avuti pochi ma lunghi. E quindi... Che è peggio. Sì, probabilmente. Ma non so cos'è peggio. Perché andare a chiedere alla Roma... Hai un tifoso della Roma cosa ne pensa degli infortuni piccoli ma costanti di Dybala. Sono diversi. Secondo me sono diversi perché è un giocatore Dybala che anche se si infortunia rientra quasi subito in condizione. Comunque ha un fisico che gli permette di giocare, ricominciare a giocare fin da subito. Per un giocatore come Arnautvic, se ti rompi in continuazione non entri mai in condizione. Cioè Arnautvic è stato forse solo nel periodo... Fra gennaio e febbraio in cui aveva recuperato un po' di forma e ha avuto un po' di continuità. Lì si era visto davvero il top del valore di Arnautvic. E il top di Arnautvic è costato la Champions League e l'Inter. Tra l'altro. Eh beh, certo. Ma è arrivato Taremi. No, è certo che è arrivato Taremi. Però quando hai un sacco di partite in più in campionato e la stagione, se tutto ti va bene, finisce a metà di luglio, ma diciamo almeno finisce alla fine di giugno e non più a maggio, ecco, avere una quinta punta secondo me è importante perché... Beh, già avere una quarta non sarebbe malvagio. No, vabbè, al momento ce l'hai. Al momento ce l'hai la quarta, la quinta sarebbe... No, Arnautvic. Vabbè, Arnautvic, sì. Sì, però rimango dell'idea che secondo me... Poi torniamo su Carboni perché, non so, Fede non ha detto niente, volevo aggiungere anche un parere personale, ma sulle punte dell'Inter, parentesi, Carboni, non lo è, quindi comunque ne devi andare a cercare qualcuno. Però lo stanno considerando quinta. Lo stanno considerando quinta sbagliando perché è più... È forse quello il motivo per cui è giusto che l'Inter venda Carboni, perché secondo me per quanto riguarda il valore del giocatore Carboni è fortissimo e diventerà fortissimo e l'Inter se ne pentirà, come ha fatto in passato con altri grandi giocatori. Io rimango di questa idea, che sia un giocatore fortissimo, che però non è adatto a questa Inter e non può trovare spazio in questa Inter e quindi è giusto venderlo. Però il fatto che sia sopravvalutato a livello di valore non sono così d'accordo, perché questo è un giocatore che si esplode al Marsiglia, in Marsiglia lo riscatta e lo rivende al doppio questa stagione, secondo me. Però è un parere personale. Il resto dell'idea è che non vada bene per l'Inter e che l'Inter abbia troppi attaccanti simili fra di loro. L'Inter deve prendere un giocatore più simile a Sanchez e Lautaro per completare l'attacco. Gudmundsson può essere il nome, però Taremi è molto simile a Arnautovic, Correa non lo considero neanche. Su Correa se il Marsiglia decidesse di fare cifra tonda a 40 milioni portarsi via anche Correa. Perché no? Correa credo che per meno di 7-8 milioni l'Inter lo rinnova e lo ripresa. Ah, facciamogli uno sconto, dai. Però poi fa minusvalenza per l'Inter. No, quello hai ragione. Però appena fatto dei video sulle minusvalenze, minusvalenze che... Il investimento a 30 milioni che ha fatto l'Inter due anni fa e quella, tre anni fa, e quella la follia. Sì. È uno dei pochi errori di Maro. Vedi anche i migliori... Qualche errore... Più un errore di Inzaghi che diventa fatto. Detto ciò, quest'anno Carboni ha giocato poco, anche perché al suo posto, da gennaio in poi, ha giocato un certo Daniel Maldini, venduto al Monza nelle ultime ore per la cifra record di 4 milioni. Questo ha dimostrazione di quello che diceva Francesco, che un dirigente è bravo anche quando deve vendere. Tu hai venduto, svenduto, Daniel Maldini per 4 milioni. Aggiungo anche che capisco la scelta di vendere Simic perché non voleva rinnovare, voleva il posto fisso in squadra, titolare, non voleva fare la Serie C, ci ha ricavato 3 milioni. Vero che la scadenza del giugno 2025 è tutto, però il buon dirigente passa purtroppo anche da questa cosa e in questo caso, parlo per i dirigenti del Milan, non vedo questa capacità di vendere. Cioè, l'Inter riesce a piazzare. È vero che, secondo me, il diritto di riscatto a 36 è un mezzo sotterfugio per dirti lo tengo un anno e poi te lo ridò a giugno, perché non credo che il Marsiglia... Beh, avrebbe fatto il prestito secco se non avrebbe... Guarda, il Marsiglia gli spendi i soldi, il Marsiglia ha speso l'ossetta cifra per Vitigna. Sì, però il prestito secco, tu squadra che lo vendi, sai che fondamentalmente allunghi il brodo per un anno. Invece così... Se il prestito secco è questo, boh, fa 20 gol, poi non lo paghi 36 milioni, lo paghi 60. Esatto. E proprio quello che dico, cioè, secondo me, può arrivare a valere quei 36 milioni e molto di più. Sì, non lo so. Cosa è nell'arco di una stagione, Andrea? È, quello. Beh, ho visto dei valori di certi giocatori schizzare le stelle nell'arco di due mesi, quindi figuriamoci... Ma certo, è lì perché... Tipo quello di Carboni. Beh, Carboni, tu mi fai il paragone con Maldini, Maldini vale 4 milioni, Carboni ha 4-5 anni in meno, è nel giro della nazionale, sta giocando e spero che giocherà ancora con più regolarità nelle prossime stagioni, secondo me è rivale. Ed è proprio perché... Cioè, se l'Inter avesse messo una clausola rescisore di 20 milioni, sarebbe stato? Poco. Oggettivamente. Oddio, poco. Cioè, perderlo a 20 milioni uno come Carboni è buttare... Andre, però non voglio fare un 3 contro 1, perché mi dispiace. No, no, secondo te perché siamo due interisti, un neutro e un milanista, dobbiamo essere sempre in maggioranza contro Fede. Hai ragione, e quindi da interista io ti dico che due anni fa, no sì, due anni fa era, riavvolgerei il nastro di Calcio Club per andare a vedere cosa dicevi sulla cessione al Chelsea di Casadei. Ma vogliamo parlare... Perché sembrava che ci stessimo privando di... Però Casadei, Casadei, secondo me, come caratteristiche, Casadei vale più di Carboni. E anche secondo me. Nonostante non abbia mai giocato in Serie A. Adesso ci sta tornando perché il Chelsea non ci punta più. Intanto hai messo in cascina 20 milioni. Voglio farvi una domanda a Brucia Pelo, no? Ma allora, poi all'Inter, giusto? L'Inter ha oggi Lautaro, Taremi, Arnautovic, Turam e Correa. Vabbè, togliamo Correa e Arnautovic che potrebbero andare via. All'Inter che giocatore manca? Un giocatore, come abbiamo detto prima, alla Sanchez, alla Gudmundsson. Carboni è quel giocatore lì. Se fosse stato veramente un giocatore di valore... Ma, cioè, perché non tenerlo? Ma sì, sì, hai ragione. Carboni è più centrocampista che punta. No, è più una seconda punta mobile comunque che salta l'uomo. Però, al di là poi del parere personale, no? Ognuno può pensare che sia forte. Per me, potenzialmente, è un ottimo giocatore. Ma, ripeto, all'Inter mancano quelle caratteristiche. Se fosse stato così bravo... È quello. L'Inter non l'avrebbe... Per me l'avrebbe tenuto, anche come quinta punta. Tanto un giocatore di 20 anni... Ma devi farlo giocare. È quello di scorta. Non puoi tenerlo come quinta punta. Deve giocare. Anche come quarta punta, va bene. Se fosse stato valido, secondo me, l'Inter l'avrebbe tenuto. È proprio quello, ma è giusto, secondo me, darlo in prestito. Secondo me, non è così scandaloso che sia stata messa una clausola in seguito a un prestito con diritto. Cioè, è diverso anche il valore che dai a una clausola di questo tipo rispetto ad un acquisto del cartellino. Di 36 milioni. Quando uno come Uisen, che ha fatto mezza stagione alla Juve e mezza stagione alla Roma, ne ha andati 20 il Barnoff. Quindi, se ne vale 20 Uisen, ne può valere tranquillamente 35-36 Carboni, per fare un paragone. No, beh, certo. Secondo me, lì si entra anche in una questione di ruolo e impatto del ruolo in una squadra. Cioè, quanto è più difficile trovare un difensore promettente e che sappia giocare anche coi piedi come Uisen. Uisen, Uisen, Uisen. Lui. L'altro che è la persona di una squadra anglese. No, no, a prescindere. Però, cioè, Carboni, non dico che ce ne sono tanti come di Messi. Però, Carboni, un giocatore offensivo che salta l'uomo, che gioca sul lato destro dell'attacco, una sorta di mezza punta che gioca a destra, me ne vengono in mente tre che giocano solo alla Roma, sulle di Balad Baldanzi. Cioè, quindi, ce ne sono tanti di giocatori con quelle caratteristiche, ovvio che tendenzialmente lo vai a pagare meno. Poi, se Carboni fosse un fenomeno generazionale, costerebbe di più. È un buon giocatore, è comunque giovanissimo, perché è 2005, quindi è sicuramente futuribile. Secondo me, ripeto, quel diritto di riscatto così alto, a me ricorda il prestito con diritto di riscatto per Serginio Dest, fatto dal Milan Campione d'Italia, a 20 milioni. Tutti, tutti, sapevano che Serginio Dest dopo un anno sarebbe tornato al Barcelona. Anzi, a gennaio era fuori rosa. Non dico che Carboni sarà fuori rosa a gennaio. Però le due situazioni sono diverse. No, però secondo me è stata una tecnica del Marsiglia per invogliare l'Inter a renderlo. Però il Marsiglia non è il Milan e ha bisogno che... Cioè, il Milan in realtà poi sud-est ci ha puntato forse all'inizio, poi ha capito che, vabbè, abbiamo tirato su uno a caso. Però ci punti all'inizio, ti fa bene, spendi 20 milioni. Però attenzione, perché il Milan non è il Marsiglia, chiaramente. Il Marsiglia, quel Milan si presentava da Campione d'Italia. Il Marsiglia va alla ricerca degli investimenti, e non è l'unico Carboni, per colmare il gap con il Paris Saint-Germain nell'unico anno in cui puoi colmare il gap col Paris Saint-Germain. Perché è andato via Mbappé. Perché è andato via Mbappé e non è l'addio di Neymar e di Messi negli anni scorsi, perché negli anni scorsi c'era sempre dietro Mbappé. Puoi prenderti anche Ozymane alla fine, ma non è la stessa cosa. E secondo me, più va avanti il mercato, meno sono le possibilità. E io un po' ci spero, perché non resta Napoli con 10 milioni e voglio vedere. Ma secondo me Ozymane andrà in Arabia a prendere... No, così giovane... Eh, lui ha detto no, così gli dicono. Può darsi, può darsi. E comunque, ricordiamoci, piccola chiusura sul Marsiglia, Marsiglia ha preso De Zerbi. Forse non a caso vogliono uno come Carboni. Ecco, forse Marsiglia vorrebbe prendere un allenatore diverso. Perché? Dovrebbe. Perché a me non piace neanche un po' De Zerbi. Beh, però per una realtà come Marsiglia mi piace come mi piaceva, per una realtà come Brighton non mi serve più per una realtà come Milano. L'allenatore in rampa di lancio è quanto l'abbiamo casato con la categoria giornalisti, a cui critico e criticherò sempre la mia stessa categoria. L'abbiamo incensato per due anni, che sembrava il nuovo Arrigo Sacchi, il nuovo Guardiola. Questo finisce dalla Premier League a predicare calcio, da quella... Alla Ligan. Dai. Io sono d'accordo assolutamente con te, ma De Zerbi comunque è un ottimo allenatore, nel senso non è però un vincente, chiaramente anche giovane, ma è uno che a quanto pare sta tentando di instaurare una cultura nel club in cui vado ad allenare, almeno a quanto sembra. Il problema è che, come ha detto lui, la classe giornalistica, i social media, sia così come i giocatori stanno pompando delle figure, in questo caso De Zerbi principalmente secondo me perché è italiano e allora all'estero dobbiamo fare gli italiani e vantarci di un prodotto nostro, tra virgolette. Quando poi tu vai in Premier con il Brighton, fai bene, sì, poi perdi dei giocatori importanti, è vero, quest'anno è arrivato, cos'è, decimo. Sì, c'è anche l'Europa League. Sì, c'è anche l'Europa League, però poi io voglio vedere se Inzaghi, Simone Inzaghi, per esempio quando andavano a Lazio, avesse giocato contro la Roma di turno e avesse preso sette pappine come ha preso De Zerbi dalla Stonvilla, mi pare, 7-0, 7-1 ha perso il Brighton, no? Sì, è... Io non capisco perché De Zerbi è osannato in questo modo, perché De Zerbi è il nuovo messia del calcio, il nuovo guardiola, allenatori come Simone Inzaghi, anche lo stesso Tiago Motta non ne parla nessuno, nessuno. E questo è Scandarolo. Il mio ragionamento è De Zerbi è perfetto per il Marsiglia, però... Sì, perché non ha pretese. Eh beh, sì, certo, è una squadretta. Allora non sei un grande allenatore. Però non sono così sicuro che valorizzerà Carboni al meglio di come... Cioè potrebbe essere valorizzato, che ne so, andando... Ma in Italia ti dico, facendosi un altro anno insieme a Palladino a Firenze. Ma il contesto fa la differenza, ma se sei forte, sei forte ovunque. Cioè parliamoci chiaro, se sei forte, se tu vali, vali in qualsiasi squadra. Poi, ovvio, magari all'Inter titolare fa 15 gol, a Fiorentina ne fa 8, ma se sei forte, ce lo vedi. Fammi dire anche una cosa sul tuo dirigente del Milan che hai citato prima. Perché oggi sono 15 anni esatti dalla gioconda degli scambi del calciomercato. 15 anni fa, esattamente come oggi. No, no. Samuel Eto'o prende la direzione di Milano insieme a 46 milioni, mentre Zlatan Ibrahimovic lascia Milano e va a Barcellona. La gioconda. La gioconda. La gioconda l'aveva, l'ha detto Biasin, mi è piaciuto anche a me molto come definizione. Eh vedi, alla fine anche lì sembrava, ero piccolino, però mi ricordo che, non dico i tifosi interisti si erano strappati le vesti, però si pensavano da un grade. Allora, quando, no. Beh, no, tutta la cifra economica. Esatto, quando inizialmente si diceva che Barcellona voleva Ibrahimovic, chiaramente era, cazzo, Ibrahimovic se ne va. Poi però nella trattativa venne fin da subito inserito Eto'o e poi doveva venire tal Alexandre Loeb, che aveva già un passato all'Arsenal e poi aveva giocato. Quello faceva un po' storcere il naso perché erano due giocatori al posto di uno. Loeb poi non arrivò perché forse non aveva passato le visite mediche, che tipo il problema era di questa natura. Cioè, 46 milioni al posto di Loeb e con quegli altri 46 milioni il resto è storia. Certo, certo. Tiago Motta, Milito. Prego, prego. Voglio fare una considerazione su questa cosa, perché è una cosa che ha segnato molto me personalmente, perché io ero proprio innamorato, perso di Ibra. Perché comunque avevo 13, 12, 13, 14 anni, ero proprio perso. Tu effettivamente lui da milanista l'ha vissuto alla mia stessa età, 3-4 anni dopo, ed è neanche due anni dopo. No, 3 anni dopo. 2009-2012. No, però Ibra ha fatto un anno a Barcellona. Sì, però c'è il discorso quando se n'è andato. Ah, quando se n'è andato. 2012. No, sì, la mia considerazione è, io in quel giorno, cioè in quel momento, ho imparato una lezione fondamentale da mio padre, che lui mi diceva sempre, non ti preoccupare, che tanto va via Ibra e arriverà un altro. Perché mio padre mi diceva sempre, io ho visto andare via Ronaldo a Real Madrid, figurati se mi fa così, perché i giocatori vanno e vengono, ma l'Inter resta sempre. E purtroppo un prese resta sempre. Hai ragione su questo ragionamento. No, però, tu sei un pirla, però è un ragionamento che resta. Ma a te fa piacere, il ragionamento è giustissimo. Però, cioè, è anche molto romantico, fammi dire. Ma è un romantico. E invece, secondo te, è normale che Dunfries vada a percepire 4 milioni, lo stesso stipendio di Di Marco? Ora, tu, io ti rigiro la domanda. Ora, onestamente, io non saprei dire che è più forte. Vabbè, lasciamo stare Fede, che poverino sta invecchiando. Però, io rigiro la domanda. Tu, dammi, in questo momento, alla stessa cifra con cui venderesti Dunfries, un sostituto dello stesso livello. Serginio Dest. Alziamoci tutti e tre al posto. Ti hai detto uno dello stesso livello, ti dico Serginio Dest. Un qualcuno con i pollici opponibili. Dimmi, seriamente, provate a dirmelo, fra lo chiedo anche a te, dammi un nome. Allora, innanzitutto, io, io fossi Marotta, farei lo scambio Chiesa-Fratesi subito, proprio perché Dunfries verrebbe rimpiazzato da Chiesa. E vi dico Chiesa. Vabbè, Chiesa è... Con Inzaghi, Quinto, secondo me, diventa lui un demone. Cioè, Chiesa-Quinto-Coninzaghi, secondo me, diventa il miglior Quinto d'Europa. Soprattutto perché... È un bel azzardo, una bella chiamata. Atletico, potente. Se poi si realizza... Sì, sì, no, io, io lo farei al posto. Una cosa è poi che avversi Chiesa e Di Marco sulle fasce... No, vabbè, forse un po' tanto sbilanciato. Quello, il tecnico è molto valgo, perché Inzaghi secondo me è un modo lo trova. Però io farei questo e Dunfries, purtroppo, rimarrà. Ma... Perché è un giocatore che ha un grosso problema. Lui ha delle doti, cioè delle cose positive, da top player europeo. È vero. E dei difetti da giocatore di terza categoria. Cioè, fisicamente, atleticamente, di testa, difensivamente comunque molto ordinato, forte. Ho visto difensori al Breda per la Pro Sesto difendere meglio di Lava. No, 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 però dico... Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. No, dai. Uno contro uno è un cane. Cioè, non è difficile che lo salti. Il problema è che poi, tecnicamente, è un giocatore veramente secondo la terza categoria. Quindi ha dei pro da giocatore forte e dei difetti da non giocatore. Cioè, da giocatore di un altro sport. Quindi Dunfries, secondo me, rimarrà, anche perché obiettivamente, dove può fare bene se non in Serie A. Solo in Serie A puoi giocare se non hai una tecnica. Forse in Premier... In Premier tecnicamente sono tutti i più valli. invece io secondo voi vi dico che la Liga è un campione. Cioè, io nell'Atletico Madrid terzino ce lo vedo. Sapete che lo seguo molto l'Atletico Madrid, però... Sì, come gioca Simeone? A Spiliqueta gioca a destra. No, Spiliqueta. ha giocato anche lui, Molina. Cioè, c'era lo stesso Ermoso quest'anno che gioca contro l'Inter. come gioca Simeone, tu dici no, la rogna, cioè lui ce l'ha, Dunfrizz anche a me, quando guardo il derby, Dunfrizz è uno che... deve passare con la personalità. Nel derby diventa... La personalità, il problema è che... Due partite all'anno quando si meno... Cioè, ma tu hai bisogno di quei giocatori lì. No, no, ma anche Col City ha fatto Col City ha fatto in finale di Champions una partita onesta. Cioè, nel senso, Grilich comunque è andato molto in difficoltà, l'ha saltato una volta. Lui ha questa garra qua che gli permette di colmare certi limiti. Il problema è che poi, cioè, fase offensiva è un giocatore davvero imbarazzante. Io invece, per proporre un nome che farebbe meglio di Dunfrizz, propongo colui che l'anno scorso era la sua... cioè, due anni fa, 2022-2023 era la sua riserva. Che sono d'accordo. Bella Nova. Ah, beh, sì, giusto. Che tu hai venduto per far giocare... No, beh, non è che non l'abbiamo venduto, non l'hanno rischiettato perché comunque... Sì, non l'è... Cioè, hai deciso... Quella logica del contro... Bella Nova, secondo me, però, difettava un po' di personalità, no? All'epoca sì, però... Ah, ok, assolutamente. Dopo questa stagione a Torino. Assolutamente. Però, se non giocare a Torino non è giocare a l'Inter. È il solito discorso. Secondo me, l'Inter, non dico che quest'anno chi avesse fatto giocare avrebbe fatto bene. Però nell'Inter di quest'anno Bella Nova avrebbe avuto il tempo di crescere. Cosa che non ha potuto fare nell'Inter di due anni fa. Perché l'Inter di due anni fa fa bene da marzo in poi. Cioè, si sveglia... E lui entra in campo per la prima volta in una partita che forse era novembre. Inter e Empoli sbagli. Sbaglia un pallone clamoroso e vengono... È scivolato, no? È giù lo stadio. Eh, viene giù lo stadio. Ma perché viene giù lo stadio? Perché era due ore prima dell'inizio della partita e era uscita la dichiarazione dell'agente di Skriniar dicendo non rinnova. Cioè, lì è tutto l'ambiente contro. Cioè, non era l'ambiente adatto per far crescere un giovane. Secondo me, quest'anno Bella Nova avrebbe fatto la stessa stagione che ha fatto al Torino e l'avrebbe fatta all'Inter. Secondo me. Ma Bella Nova... Se avesse giocato. Quindi, quello. Il mio nome. Poi, sugli altri avete detto tutto bene. Chiesa continua a credere che sia un po' troppo offensivo avere... Però è bella questa chiamata di Skriniar. È una bella chiamata. Sarebbe anche una sfida per Simone Inzaghi. Sarei curioso di vedere come Inzaghi... Io per frattesi non lo farei mai, sincero. Però a prendere Chiesa e metterlo lì come quinto che tutti dicono no, non è capace. Sarebbe anche per Chiesa una sfida perché gliel'hanno detto no per anni con Allegri che non poteva giocare di là. Allegri ha messo punta, eh. Io sono convinto. Poi, su Bella Nova volevo dire una cosa perché in parte sono d'accordo col fatto che sia un ottimo giocatore. Però io penso che Bella Nova cioè, come tutti i giocatori in generale eh, io per quello tra virgolette combatto un po' il fatto delle statistiche di quanti dribbling ha fatto di quanti chilometri la ricorre perché un giocatore secondo me per giocare all'intra al Milan alla Juve adesso è un giocatore internazionale e un giocatore lo vedi dopo tre tocchi di palla se è un giocatore secondo me che dici questo è uno forte o meno cioè, per esempio Zielinski rispetto a Frattesi quando vedo giocare Zielinski penso questo è uno forte Frattesi ottimo giocatore ma non mi dà le vibes di uno che può portare l'Inter a vincere la Champions League ho visto che Zielinski l'hai consigliato come Zielinski mi dà le vibes di uno che a qualsiasi livello può giocare non che sia da Real Madrid però se giocassero a Real Madrid ci potrebbe stare la riserva non farebbe il titolare mentre Frattesi no, questo è il mio pensiero rito perché un mio amico del Napoli ha sempre detto che nelle rotazioni del Real Madrid Zielinski sarebbe entrato senza problemi io su questo non ci credo manco se lo vedo ma io non mi ero modo di dire no, no, no poi ci mancherebbe però effettivamente a zero così l'Inter fa un colpo da 90 regalato indubbiamente Zielinski è uno dei giocatori a livello statistico migliore degli ultimi anni della Serie A e poi ha scelto la maglia numero 7 e chi ha il 7 nell'Inter è quasi sempre un fenomeno eh beh, eh beh certo è l'ultimo chi era? Quadrado infatti immaginavo però oltre a oltre a Zielinski i frattesi secondo me non sono d'accordo credo che sia un ottimo giocatore con tantissimi margini di crescita non per tornare a Chiesa perché poi volevo rimanere su Chiesa per chiedervi anche su di lui e sulle altre destinazioni io mi ricordo il Chiesa della Fiorentina che giocava come quinto ed è stato forse uno dei miei Chiesa preferiti e mi auguro che venga all'Inter e mi auguro che Inzaghi lo riesca a utilizzare in quella maniera poi l'avete detto anche voi prima ci sono tantissime partite ci saranno tanti ricambi e non mi sorprenderei nel caso in un ipotetico futuro in cui venisse Chiesa nel vederlo magari alternato con un Darmian lo stesso Dumfries se non va via in partite in cui magari giochi una volta con Darmian e Di Marco dall'altro lato una volta con Chiesa e magari Carlos Augusto dall'altro lato che è un po' più difensivo cioè magari non li metti insieme Di Marco e Chiesa se non in specifiche occasioni ma li alterni in modo che per un po' spingi da un lato di più per un altro po' spingi dall'altro lato giustissimo e su Chiesa vi chiedo oltre alla destinazione Inter che è più è più utopica che altro ad oggi è più utopica ma per i rapporti perché in realtà al posto di Gudmundson lui ricopre anche il ruolo che manca davanti quello è assolutamente vero i soldi di Carboni cioè se a Juve gli arriva un'offerta a 30 milioni che non sta arrivando in questo momento è utopica ma la vedo dura che rinunci perché tra un anno lo perde a zero se lo perde a zero poi va all'Inter sicuramente è certo e quindi ti conviene prendere 30 milioni ora che possono lavorare da Carboni e poi scusa vai con la no beh era proprio su questo su Chiesa perché volevo capire da parte vostra perché si è parlato anche di altre squadre si è parlata tantissimo della Roma che però adesso sembra aver puntato più su un altro tipo di giocatore che anche qua rimango un po' perplesso quindi se la Roma hai 30 milioni di budget per quel ruolo prendi su Le o Chiesa prendi Chiesa Chiesa hai già Di Bala hai già Di Bala e Baldanzi no no hai già Di Bala c'è uno che non gioca che ne gioca uno e ne salta tre avere anche Chiesa è un rischio un po' grande hai preso tre trequartisti hai Baldanzi su Le e Di Bala che sono quasi uguali la Pellegrini se giocasse 4-2-3-1 sarebbe comunque un trequartista tra l'altro quindi è quattro però il discorso è sempre lì necessità della Roma cercare un giocatore offensivo hai 30 milioni prendi uno che la scorsa stagione ha giocato tutte le partite ha fatto 11 gol o prendi uno che sono più le partite che ha saltato prima dicevi il mio Chiesa preferito è quello della Fiorentina credo sia stato il penultimo anno che ha giocato una stagione vabbè ha giocato il primo anno la Juve può essere rotto il ginocchio e basta ciaone cioè quindi è quello secondo me che il problema di Chiesa è sempre la condizione fisica e spendere 30 milioni per uno che boh chissà quante me le gioca io credo che farà la fine di Di Bala cioè ossia che andrà a scadenza perché nessuno farebbe o una squadra inglese o squadre non inglesi non farebbero secondo me e non stanno facendo del resto un investimento del genere su un giocatore che non ti dà garanzie a livello fisico poi che chieda se è un buon giocatore io lo penso e anzi lo vedrei bene anche al Milan per dire come ricambio di layout però io non sarei disposto a spendere 30 milioni per uno che è quello sono le cifre sono le cifre che chiede la Juve che bloccano tutto 30 milioni ingaggio e beh certo e poi c'è anche c'è anche il contratto è quello il grande il grande dubbio la grande perplessità un po' di tutti gli addetti ai lavori ma quindi secondo voi Sule è l'acquisto giusto per la Roma a me io proprio così a freddo non l'ho capita cioè non a freddo a caldo non l'ho capita perché non non vedevo questa necessità a meno che De Rossi decida di giocare in una maniera diversa quest'anno però sembrano davvero doppioni su doppioni cioè posso capire Baldanzi perché ti copre la non condizione ottimale di Dybala però non so fra tu pensi che Sule sia il giocatore giusto per e che serviva questa Roma ma più che più che il giocatore giusto per la Roma io penso che Sule cioè che che per Sule il livello giusto sia la Roma cioè un giocatore che secondo me vale la Roma non valeva la Juve non vale l'Inter non vale le Milan cioè l'Inter e Milan e la Juve fanno un altro sport rispetto alle altre a livello di Blasone quindi per me Sule la sua dimensione è quella un giocatore un po' sopravvalutato perché come Carboni prima dicevo a me per me un buon giocatore Sule come un buon giocatore Carboni però questa modo degli argentini ormai quindi che sia il giocatore giusto per la Roma o meno questo non saprei dirlo perché tanti dicono che può coesistere con Di Bala io mi fido di quelli che studiano dei match analyst io però anche se non sempre no no a volte non sono d'accordo in questo caso sono in parte d'accordo perché poi comunque sta tutto a De Rossi che l'anno scorso ha dimostrato di saper valorizzare giocatori offensivi Pellegrini da quando è arrivato lui è tornato Pellegrini Di Bala ha fatto quello che ha fatto e Sharawi ha fatto da quinto la differenza quindi mi fido tra virgolette di De Rossi e penso che Sule però sia di quel livello là c'è Chiesa la domanda che ti ha fatto prima lui tra Chiesa e Sule con 20-30 milioni che prendi io sono d'accordo con lui C'è Chiesa per me Sule è sopravvalutato a Chiesa sottovalutato cioè Chiesa secondo me per quanto riguarda me ma c'è un motivo secondo me è stato anche il fatto primo italiano prima cosa seconda cosa è il fatto di aver passato un anno e mezzo due anni con a parte la rotola del crociato con un allenatore che comunque lo ha svalutato perché ha svalutato tutti i giocatori offensivi perché un conto è giocare gli ultimi 30 metri un conto gli ultimi 70 prendi palla sulla tre quarta difensiva arrivi in porta è normale che non fai 15 gol e Chiesa secondo me proprio è di un'altra categoria per quanto mi riguarda io penso che Chiesa cioè penso che Chiesa in forma lo dico si è più forte di Leao no senza ombra di dubbio qualcuno senza ombra per me l'ordine degli esterni in Italia la classica of 3 in ordine è Kwaratschelia Chiesa Leao metto il primo piano di fede in questo momento no ma ragazzi Chiesa per me è troppo forte in forma valorizziamolo e vediamo cosa fa posso anche essere d'accordo rispondo se lo ti mandassi a fare no me lo aspettavo puoi essere d'accordo perché in quella top 3 manca Politano tra l'altro Politano Kwaratschelia allora perfetto ora ci siamo cioè rispondo dicendo Di Bala se in forma è il giocatore più forte del campionato non è che non è mai in forma lo stesso discorso è Chiesa ok è stato svalutato così ma anche all'europeo cosa ha fatto all'europeo però predicava nel deserto però abbiamo detto che il giocatore forte è forte sempre e cozzano se cose cioè io sono io sono d'accordissimo ripeto secondo me Chiesa è molto forte però non può rientrare nella classifica dei più forti esterni perché in una stagione che dura 50 partite se tu me ne giochi 30 se va bene è un problema perché le altre 25 chi me le gioca la tenuta fisica è vero però sono cose che vanno considerate cioè noi abbiamo il settimana scorsa stavamo parlando di Messi e Ronaldo Messi e Ronaldo sono stati considerati fenomeni non solo per quello che hanno fatto ma perché lo facevano tutta la stagione ma anche Leao il suo stile a ventino annuale se lo fa ma a prescindere le sue prestazioni cioè vuoi dirmi che Leao non si fa 20 partite all'anno no Leao se ne fa anche meno 25 non a livello di partite giocate ma partite giocate al suo livello a volte per la sua allora il discorso però è uguale a quello di Chiesa se ci pensi ora ti rimetto il primo piano e voglio che mi dici che Chiesa è migliore di Leao ma non lo dirò mai ma perché questo non lo dico neanche io ma dai ma perché il discorso è se in forma cioè quel se è troppo grande come carattere come giocatore come valore assoluto cioè Leao ha un sacco di limiti Chiesa è completo per me cioè secondo me anche Leao è un gioco ha i colpi da fuori classe così come c'è la Chiesa secondo me una considerazione che si può fare è questa secondo me chi prende Chiesa quest'anno fa l'affare perché secondo me perché secondo me Chiesa ha superato i suoi infortuni che l'hanno distrutto nelle ultime stagioni e quest'anno non ne ha saltate tanti non ne ha saltate tanti ha giocato molto bene nel deserto che era anche la riva di Allegri ne ha saltate più per febbre quest'anno paradossalmente che per problemi muscolari ma poi nel sette anni cioè vuol dire che ora mentalmente è nel pieno della maturità quindi secondo me per i prossimi tre anni secondo me Chiesa sono due discorsi diversi quello che dice Andre è stravero che Leao sia più determinante di Chiesa io sono d'accordo con te rimettegli il primo piano tra l'altro non volevo neanche soffermarmi su questo che mi sembra veramente ridicolo parlarne adesso è ridicolo secondo me secondo me visto che Chiesa chiede anche un ingaggio da top giocatore l'affare lo fai prendendolo a zero non spendendo 30 più l'ingaggio secondo me però l'affare nasce nel momento in cui riesci magari a fine mercato a strapparlo a prezzo di 100 se invece di 30 lo paghi 15 15 non lo pagherai mai ma già 22 uno sconticino di 8 perché nel momento in cui va a zero da gennaio parte il circo su Federico Chiesa perché in questo momento in Italia serve a tutti e in Europa serve a maggior parte alla maggior parte del liceo ma se non va via quest'estate va già dell'Inter se non va via entro fine agosto dipende perché se ti arriva il Bayern Monaco ma io penso che lui sia anche un giocatore che magari vuole rimanere in Italia alla fine la vita per i giocatori cioè rimanere in Italia comunque in un anno di cose se ne succede guarda Morata per esempio che ritorna solo perché la stampa gli ha detto stampa e anche tifosi gli hanno detto dietro di ogni no no tebraio sì esatto però vedete anche lì Morata comunque è tornata in Italia anche perché secondo me sta bene in Italia comunque sì certo sì ma anche perché sa sa che conosce il campionato e sa quello che può dare in quel campionato cioè no vabbè ma sicuro poi vabbè la moglie italiana ma anche la convenienza dell'offerta arrivata da Milan arrivata da Borussia Dortmund voleva viversi un'esperienza milanese c'è stato poi aver provato Torino non me ne vogliono a Torino ma ragazzi messaggio dalla chat un saluto da Antonia Mazzi buona serata a tutti voi ciao Antonia puntata omologata è la nonna si può dire che scuola ti fa tua nonna? cosa? che scuola ti fa l'abbiamo detto una volta noi lo sappiamo lo sappiamo se ascolti puoi recuperare le puntate di Calcio Club l'ha detto eh non mi ricordo forse è l'inizio dell'anno l'ha detto spero che ti fai una squadra esotica ti lo diciamo guarda una volta è venuta da me prima cioè quando l'ho conosciuta di persone mi fa no io a Federico non lo posso dire però io sono interista è vero è interista ma lo sappiamo che c'è no non è abbastanza esotico non so le nonne mi danno sempre l'idea che magari ti fanno il barletto eh ma è da tanto è da tanto tempo che è qua il Ciniselle il Ciniselle il Ciniselle il Milan esizzato il Milan esizzato il Milan esizzato il Milan esizzato no comunque visto che abbiamo parlato tanto dell'Inter parliamo del mercato del Milan vai chiudiamo col Milan che abbiamo 5 minuti però non c'è il mercato parliamo di quello della Juve sì le ultime voci però l'argomento Milano è interessante vai 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 voglio sapere da Fede e poi da Fra ovviamente un parere sul dove siamo a che punto siamo siamo in una situazione complicata da da analizzare secondo me cioè da un lato mi sembra evidente il ritardo che non è tanto il fatto che è chiuso solo Morata ritardo temporale di non aver chiuso i colpi non è il fatto di aver chiuso solo Morata è il fatto che Fofana Pavlovich Emerson Royale adesso da un paio di settimane Samarsic sono nomi che girano da troppo tempo e io capisco l'idea del Milan che dice per me quel giocatore tra l'altro Fofana è assurdo che a gennaio lo prende a zero e adesso il Monaco chiede 35 milioni è folle quando si sembrava se si fosse trovato l'accordo sui 15-20 però vabbè quello è un altro discorso però ti esponi a a degli interessamenti a delle delle intrusioni delle altre squadre inutili cioè porti avanti una trattativa è rischioso perché poi l'abbiamo visto ad esempio anche due anni fa con De Chetelare De Chetelare arriva dopo una trattativa di un mese e arriva a preparazione inoltrata e quelli sono questioni da da guardare poi ovvio tu vai a vedere i nomi che vuole Milan e Fofana sarebbe comunque arrivato tra dieci giorni perché è uscito in semifinale con la Francia Pavlovich uguale perché ha fatto l'europeo magari sarebbe arrivato prima Samaric idem con patate quindi anche se li avessi comprati anche lo stesso Morata arriverà alla tourne finita quindi è una situazione strana quella di quest'anno però il portare avanti tanto le trattative è un problema è snervante a parte snervante che vabbè io il tifoso non deve non è lì a fare la trattativa lui sono i dirigenti che nel caso si arrabbiano e si stancano però è il loro lavoro dovrebbero farlo è il problema che ti esponi a dei rischi troppo grandi per fondamentalmente un mercato che non devi fare grandissime cose mi chiedo la vostra però il Milan deve puntellare quest'anno la squadra l'anno scorso il Milan non deve puntellare il Milan deve completamente rifare la difesa perché sennò puoi avere l'attacco più forte del mondo ma se dietro ti è andata di culo una volta che Gabby è tornato più forte di prima ma secondo me non deve rifarla completamente ma lo dico da gennaio dell'anno scorso completamente rifare perché non è ammissibile nel Milan per voler colmare il gap con l'Inter che la riserva di Teo Hernández Teo Hernández sia Gimenez presenze in Serie A due forse una Teo Hernández si fa uno strappo come il mio al polpaccio sta tre mesi fuori tu giochi tre mesi con titolare di Gimenez secondo me per il Milan che vuole colmare il gap non è ammissibile si fa male abbiamo parlato di infortuni di chiesa Calulu Tomori ciao che si resta diciamo come è successo all'anno scorso quanti mesi hanno saltato complessivamente troppi ecco non c'è più neanche Kier Pavlovich va bene è uno chi altro mette il Milan cioè e il Milan sta continuando la punta ok era da fare e probabilmente ce n'è da fare un'altra ma 20 milioni per Samars ma Fofana quando hai già investito tutto tutto quello che dovevi investire l'anno scorso sul centrocampo perché hai portato a casa un buon acquisto love to cheek in un ottimo affare per come l'ha chiuso il Milan e probabilmente il potenziale l'ha fatto vedere solo nella seconda parte hai portato a casa Reinders ok hai recuperato Ben Nasser dopo un lungo infortunio quest'anno ce l'hai dall'inizio cosa andate a fare a prendere Fofana altri acquisti dalla mediana in su altri acquisti dalla mediana in su l'Inter questo campionato l'ha vinto perché aveva una solidarietà una solidarietà una solidità difensiva incredibile in questo momento il Milan io la vedo la settima miglior difesa del campo cioè il Como con Varane sta messo meglio del Milan per me è una sparata anche qua primo piano su Fede però torno su Fra che siamo quasi in chiusura volevo sentire anche il suo parere allora sul Milan sul Milan io ho un pensiero ben definito cioè è vero quello che dice Fede soprattutto a livello di ritardo no è vero il problema del Milan del mercato più che la questione tecnica cioè di giocatori da comprare e il grosso problema è la dirigenza ma ti spiego perché perché il cui taglio un primo piano no ma è vero ma il ritardo nell'acquistare giocatori nel chiudere la trattativa non è un problema per quanto mi riguarda per una questione di proprio calendario di preparazione quanto perché questa cosa ha un impatto psicologico sulla rosa secondo me devastante cioè mi spiego pensa te essere Barella o Turam o Lautaro arrivare ad agosto luglio in preparazione tu sai che da tre mesi l'Inter ha preso Zirisky Taremi a zero la tua società ha preso nessuno ha detto niente un conto invece è anche per un giocatore dire oh ma i miei compagni di squadra saranno questi però vedo la dirigenza Pofana vogliono 30 e offrono 15 Pavlovich vogliono quello e offrono questo Morata è stato chiuso in un mese cioè ogni volta tentennare portare alla lunga le trattative secondo me non dà la rappresentazione di forza che dovrebbe avere una società come il Milan e l'assenza di un milanista come Maldini che è stato cacciato qualche anno fa fa la differenza perché io quando ero piccolo il Milan mi ricordo quando trattavo un giocatore galliano Berlusconi che poi poteva essere un giocatore da pallone d'oro tu sapevi che l'avrebbe preso il Milan oggi non è più così e il Milan deve accettare di essere una realtà diversa da quella di 20 anni fa causa secondo me principale la dirigenza ti porto tre esempi Nesta nel 2002 il Milan va alla ricerca per tutto il calcio mercato di un difensore e poi prende Nesta all'ultimo giorno di mercato Ibra perdona voleva prendere Cannavaro no è che eri troppo piccolo ma Nesta era praticamente già fatta si inserisce il Milan va in fumo quella dell'Inter e il Milan solo quel punto lo porta a casa all'ultimo giorno però dico il prendere Nesta questo ha ragione lui nel momento in cui il Milan si inserisce è finita però il discorso è anche lì avevi una necessità il difensore centrale ci ha impiegato tutto il calcio mercato ci può stare poi attenzione il fatto che quello che dici tu 20 anni fa è capitato un episodio adesso ogni trattativa cioè il Milan sono tre anni no lo so che ogni trattativa è così però prima dicevi del milanista in dirigenza Maldini è quello che ci impiega un mese per prendere il decetelare partendo da una richiesta di 35 milioni e dopo un mese di estenuanti trattative pagandolo 35 milioni ma Maldini più che tra c'era un potere decisionale a livello economico però allora cade il fatto che quando c'era Maldini aveva un senso ma no ma quando c'era Maldini io aveva credibilità io non essendo milanista avevo la sensazione che il Milan fosse pericoloso cioè che fosse il Milan non il Milan delle Champions ma comunque che fosse il Milan adesso il Milan ormai è diventata una Roma cioè nel senso una squadra che se vince bene va bene tutti contenti si va in piazza a festeggiare i tifosi scendono in piazza se il Milan non vince però si qualifica in Champions ha fatto il suo non è così c'è il Milan la squadra che ha 7 Champions League ragazzi il Milan è una squadra che ogni anno deve puntare a vincere la Champions League la prima cosa per puntare il pesce come si dice puzza dalla testa perché i piani alti faranno la differenza l'Inter perché vince questi anni perché c'è Marotta che tiene in ordine tutto perché Zank che se ne dica ha buttato un sacco di soldi nell'Inter ora vedremo il Milan la differenza con l'Inter o con la Juventus che adesso tornerà a investire è che la dirigenza non ha potere cioè ha i soldi ma non ha potere sono d'accordo il potere è meglio dei soldi certo assolutamente però quello secondo me esula un po' dal discorso interisti milanisti lì sono dirigenti capaci perché Marotta tutto è tranne che interista nel senso però Marotta è in grado di diventare interista secondo me quando vai come Conte vai al Napoli il tifoso del Napoli secondo me non è il discorso del tifoso cioè lì come hai detto te ci sono le persone competenti e le persone che non sono adatte a quel ruolo secondo me al momento nella dirigenza del Milan manca un dirigente di campo forte perché Moncada è bravissimo a fare scouting non a fare le trattative Purlani è bravissimo a far quadrare tutti i conti non a fare le trattative però secondo me al Milan manca uno che sia interista barese è malinter la stava descrivendo me fino a quel punto quindi pensavo magari mi stesse mandando a Milan c'è qualcuno che sappia andare a fare le trattative perché il problema del Milan è quello cioè perché come dici te non c'è più l'appeal è anche secondo me è anche giusto il discorso di base del Milan che dice secondo me a quel giocatore vale 15 più di 15 non ti do le commissioni per me le commissioni sono sbagliate non te le do il problema è che però il mercato purtroppo per fortuna funziona in questo modo quindi se tu hai la negligenza e questa è una negligenza di non adeguarti al mercato è una nobile causa però poi il Milan si dovrà sempre ritrovare a prendere la seconda scelta non parliamo di ambizione di vincere allora parliamo di ambizione di galleggiare capito che poi l'Inter comunque c'è l'ambizione di vincere c'è perché se no è che dirigenza sei non se resta una dirigenza il problema è che il modello su cui si basano lascia stare il moneyball proprio nel fare le trattative anche non è un modello applicabile al calcio cioè ma è quello se gli algoritmi no ma prescinde dall'algoritmo perché anche anche Marotta la dirigenza dell'Inter usa l'algoritmo non è che gli scegli con l'algoritmo poi c'è c'è sempre un qualcuno di campo che li deve valutare e deve fare la trattativa quello manca al Milan sì sì questo è vero non può esserlo Ibra ma non può esserlo Ibra Ibra può essere il primo Maldini tant'è che Maldini quando diventa fondamentale quando prende Ernandez Maldini non è andato a fare la trattativa come dirigente massimo del Milan perché in quegli anni c'era Boban c'era Gazzidis vedi figure comunque importantiche Boban sì ma Gazzidis non era milanista però è stato fondamentale per il Milan no no ma infatti non è che devi avere tutti i milanisti però avere intorno figure Ibra può essere una bella mossa tant'è che poi Maldini quando si è trovato a fare il dirigente massimo ha sbagliato perché non era pronto perché non era quello il suo ruolo non doveva fare quello Maldini doveva fare lo Zanetti di turno bravo ma Maldini non avrebbe mai fatto lo Zanetti di turno siamo giunti a questa conclusione siamo giunti a questa conclusione che piove Maldini ladro per me non glielo avrebbero fatto fare no chiudiamo così chiudiamo con con vedi perché non volevo parlare di Milan perché poi mi sta 5 minuti raga chiudere con piove Maldini Juventino vuoi chiudere la stagione di Calcio Club ah esatto visto che questa è l'ultima puntata che poi inizierà la programmazione estiva del Pertini no si aspetta però venerdì prossimo noi comunque non ci saremmo stati questo è diverso quindi la prossima volta che ci vedete su questi schermi sarà nella programmazione estiva ah no beh sugli schermi esatto su questi schermi di Calcio Club tra un mesetto un mesetto e mezzo qualcosa che è fateci andare in ferie abbiamo fatto tutta una tirata tutto l'anno ma tanto sai cosa devono fare? devono seguirci sui social esatto tutti i riferimenti saranno là detto ciò io ringrazio Nicolò e Francesco per averci accompagnato in questo ultimo viaggio ringrazio Andre per averci giostrato in questo viaggio nelle nostre emozioni grazie a te grazie a te io ringrazio te a questo punto ringraziate me e questo è Temptation Island no non voglio finire così mi rifiuto di finire così no è l'absus freddiano no com'è che vuoi finire? facciamo calcio facciamo calcio e buone vacanze e facciamo calcio buone vacanze a tutti grazie Nico grazie Fra grazie Fede grazie a tutti ciao 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 ciao